Il recente divorzio politico tra Attilio Fontana e Letizia Moratti non potrà non avere delle conseguenze sotto il profilo dell'organizzazione sanitaria in regione Lombardia. In particolare si tratta di vedere chi dei due continuerà sulla linea tracciata dalla riforma che porta al loro nome e che è stata approvata dal Consiglio regionale esattamente un anno fa nel novembre del 2021 e chi invece apporterà delle modifiche peraltro richieste da tutti. Oppure se ci sarà una terza parte politica che la stravolgerà addirittura. La riforma è nata sotto esigenze sacrosante, cioè di portare fuori la bassa intensità di cura dai pronto soccorso. Ma come si vede quotidianamente la condizione del pronto soccorso non è migliorata di una virgola, anzi se possibile è anche addirittura peggiorata. Secondo noi perché è stata sbagliata l'implementazione, la messa in campo, la messa in essere della riforma è stata molto debole o anemica per rimanere in tema sanitario. In particolare a Como è sotto gli occhi di tutti che la casa di comunità è soltanto una ed è al vecchio Sant'Anna e non è raggiungibile da anziani che abbiano un problema sanitario appunto di bassa intensità che si riversano come sempre al pronto soccorso del Valduce, chi abita appunto in città murata, dove magari ci sono due o tre ambulanze in codice rosso che hanno giustamente la precedenza. Quello che ci permettiamo di suggerire a Moratti o a Fontana o chiunque vorrà mettere le mani su questa riforma è di ascoltare i territori, di ascoltare le amministrazioni comunali, di ascoltare gli ordini professionali e perché no ascoltare i cittadini. Cioè di non fare come le riforme fatte fino adesso che vengono calate dall'alto da Regione Lombardia tramite le proprie braccia armate che sono le ATS e le ASST che fanno un po' di testa loro. Le risorse non dovrebbero mancare stavolta, con il PNRR potremmo averne in abbondanza per creare dei poliambulatori in ogni rione, in ogni distretto della città. Grazie. 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 Grazie.